via podgora, via via podgora, via podgora, via via podgora, gallas mi piaci, via podgora, via via podgora, all night long, gallas mi piaci, vergognosissimo, allora buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, è un po' che non ci sentavamo, un po' per ferie, un po' per covid, un po' per eccoci qua, ritorniamo, siamo rimasti in pochissimi, io e Vincenzo, perché ho gente che non si alza, ho gente malata, ho gente che, ecco, rimane, come si chiama, il ferro, il pilastri, siamo io, il vincenzino, allora Vincenzo, siamo oggi mercoledì 21 e domenica, è un po' da ridere, si vota, allora per drammatizzare c'è questa storielina che mi ha mandato un amico che muore questo giovane onorevole, strano, giovane, arriva su e San Pedro fa, ma strano, giovane onorevole, strano, allora guardi, è onorevole, sapete che voi avete un po' di, però potete fare, avete una scelta, prima vi facciamo vedere sia l'inferno che il paradiso e poi voi potete scegliere, va bene, vedi, anche di là hanno le agevolazioni, allora lo accompagna prima giù all'inferno, all'inferno arriva, si, chi è lì, no, apre questo, diavolo, apre, si, venga, venga, va dentro, vede un prati meravigliosi, tutta gente che gioca a golf, appena lo vedono, venga, venga l'onorevole qua e via per il cena, ma questo è l'inferno, questo è l'inferno, per gli onorevole, e poi vede qua, partite lì, poi campi, ancora golf, bellissimo, camminate meravigliose, a per il cena, musica, spettacolo, questa miseria, si fa, si, ma la roba, spettacolo, ma guarda, questo è l'inferno, va bene, adesso va su, va, va su in paradiso, sapete, questo è paradiso, lì, sì, anche lì, bellino, sai, fra le nuvole, camminata fra le nuvole, ogni tanto preghiere, canti gregoriali, sì, bene, però, sì, sì, e allora sceglie dopo un po', allora ha scelto, un giorno dopo, no, un giorno dopo, no, no, guarda, io ho visto, sceglie andare all'inferno, prego, uscendo all'inferno, arrivato, il capo dell'inferno apre, deserto, tutta la gente frustata, gente che fa la cacca, così, ma scusi, due giorni fa, che sono tornato, sì, sì, ma prima, quella volta eravamo in campagna elettorale, signori, un saluto dalle tre sorelle, vedete, ci sentiamo qui avanti, ciao, 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 ciao.